14 agosto, non tutti capiscono questa parola. Gesù è venuto sulla nostra terra per riscattare l'uomo dalla sua pigrizia spirituale. E questo è il più grande veleno che il peccato inietta nel nostro spirito e nella nostra anima, la bulia, la pigrizia, l'accidia. Ci priva di ogni forza nella perseveranza. Si prende un impegno e poi non lo si mantiene. Ci si lega con un vincolo santo perpetuo per tutta la vita e poi si scioglie. Anche il patto di natura, che avviene con il sacramento del battesimo, della cresima, del presbiterato, spesso, è rotto. Oggi poi è uno scempio spirituale universale. È come se la fedeltà non esistesse più, non solo a livello religioso, ma anche nel campo sociale, professionale, politico, industriale, economico, internazionale. La parola dell'uomo ha perso ogni valore. Eppure essa è sacra, come è sacra quella di Dio. È sul fondamento della parola data che Dio opera. Nessuno può ricevere il sacramento del battesimo, della cresima, del presbiterato, senza dare al Signore la parola di essere suo per sempre, secondo ciò che il sacramento significa e opera nel cuore, una volta che è stato celebrato. Gesù ci riscatta con la sua grazia, ma anche la grazia necessita della parola dell'uomo. Essa va chiesta come vera forza per perseverare sino alla fine, crescendo ogni giorno di più nella fedeltà. La grazia diviene inefficace se la si riceve senza questo impegno preso dinanzi a Dio. L'Eucaristia è nulla, anche se in essa e per essa è lo stesso Dio che si riceve come grazia increata. Se ci si accosta ad essa senza alcun impegno a lasciarci interamente trasformare dalla potenza della sua efficacia rigeneratrice, risanatrice, guaritrice. Pietro dice a Gesù che amare una donna per tutta una vita è un impegno talmente forte e coinvolgente che è preferibile non sposarsi. Gesù rafforza il pensiero di Pietro. Sono pochi quelli che comprendono queste parole, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Consacrarsi al celibato permanente non è una scelta di natura, ma è pura grazia del Signore. Al matrimonio si può andare anche per scelta personale, naturale, libera. Il celibato, per il regno, è purissima grazia del Signore. Anche se è grazia, anche la fedeltà a proprio celibato può essere inquinata dal veleno del peccato e ci si può allontanare dalla parola data al Signore. Da sola la grazia iniziale non è sufficiente. Chi vuole essere fedele ad ogni parola data, sia per il matrimonio che per il presbiterato, deve allontanarsi dal peccato sia mortale che veniale. Nel peccato si è sempre infedeli. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero E' lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo. Egli rispose Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divide a quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla. Rispose loro Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così Ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi. Egli rispose loro Non tutti capiscono questa parola ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre e ve ne sono altri che sono stati resitali dagli uomini. E ve ne sono altri ancora che si sono resitali per il regno dei cieli. Chi può capire capisca. Matteo 19, 3, 12 Dove si vive nel peccato e nulla si fa per uscirne fuori quando ci si allontana dalla grazia di Dio nessuna fedeltà potrà mai esistere. Non c'è perseveranza. Inesorabilmente si cade a causa dell'acidia e della pigrizia dello spirito che manca di ogni forza per perseverare sino alla fine. Nessuno si illuda o ci si allontana dal peccato o si è preda di ogni infedeltà. Nessuno potrà amare sino alla fine secondo la parola data se ogni giorno si avvelena di peccato e di pigrizia infernale. Vergine Maria, Madre della Redenzione e angeli santi liberateci da ogni peccato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti